un saluto a tutti gli amici di planet spin e vi do il benvenuto a questa nuova rubrica dedicata a tutti gli appassionati della pesca che si chiamerà planet spin live blog approfitteremo di questo tempo in cui tanti di noi non possono andare a pesca come me per cercare di portare avanti le attività del sito legate al sito planet spin saranno una serie di appuntamenti con dei piccoli video dove vedremo aggiornati con le notizie più interessanti provenienti dal mondo della pesca parleremo di tecnica di attrezzature ma anche di attualità inoltre avremo modo di conoscere nuovi amici e parlare della nostra passione a 360 gradi tutto nasce dalla necessità di tenere insieme le attività del sito planet spin.it e aumentare lo scambio di informazioni con la diversa utenza che ci segue sul web tramite il canale planet spin qui su youtube cercheremo di rafforzare l'interazione con i nostri canali social che sono vi ricordo la pagina del gruppo facebook di planet spin ma anche i canali instagram e twitter nella descrizione troverete tutti i link l'idea di far partire questo nuovo progetto ricordo si chiama planet spin live blog nasce proprio dalla necessità di creare un filo conduttore tra le notizie pubblicate in giro sul web tra cui anche sul nostro sito e i social collegati ormai sono così tante le informazioni che è diventato molto facile perdersi fra le varie notizie ma anche e soprattutto perché l'utenza si è in qualche modo abituata a ricevere informazioni e non sempre a cercarle come succedeva tempo fa quando anch'io come tanti di noi abbiamo iniziato a muovere i primi passi utilizzando web a planet spin live blog cercheremo di dare una credenza settimanale per cui iscrivetevi al canale se vi fa piacere attivate la campanella per non perdervi nessun nuovo inserimento ma andiamo subito a definire quelli che sono i punti chiave di questo format che nel corso di questa settimana potranno ovviamente variare anche in base alle vostre richieste ai commenti e speriamo alle tante nuove idee che ci suggerirete i tre punti principali che saranno trattati in questa rubrica saranno planet spin news notizie dal web e un minuto con planet spin news praticamente conosceremo le ultime notizie pubblicate sul sito planet spin.it notizie dal web vi parleremo di novità e altre news interessanti trovate in rete e un minuto con questo sarà uno spazio di circa un minuto che verrà dedicato agli amici di planet spin che in qualche modo vorranno farsi conoscere tramite il nostro canale e collaborare attivamente con il nostro progetto vi ricordo che planet spin è un network di informazione totalmente gratuito portato avanti da tanti appassionati di pesca tra gli amici che si proporranno per collaborare tutti riceveranno il gran certo omaggio troverete link in descrizione con i nostri contatti per il momento è tutto se il video vi è piaciuto lasciate un like inoltre se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale e attivando la campanella riceverete tutti gli aggiornamenti e come sempre un saluto a tutti gli amici di planet spin ciao Grazie a tutti.